È una lezione spettacolo con dei video molto belli di visual art per raccontare questa straordinaria impresa di Fiume, una pagina di storia spesso dimenticata della nostra storia italiana dove gli artisti vanno al potere. La grande utopia futurista degli artisti al potere in quei 14 mesi a Fiume diventa realtà e arriva alla meglio gioventù artisti scrittori che poi lasceranno un segno nella storia politica e sociale del Novecento in Italia. Quindi noi da artisti siamo ben contenti di rappresentare questa pagina di D'Annunzio. Poi io ormai sono dieci anni che interpreto su tutte le scene italiane il Vate, l'ho fatto vecchio, giovane, a Fiume, quindi sono felice di aprire proprio qui questa rassegna, chapeau al Consiglio regionale che ha organizzato questa manifestazione perché D'Annunzio deve essere un brand non solo pescarese, abruzzese ma anche italiano. In scena con me c'è Mariangela Robustelli che interpreta Ermione, questo personaggio che racconta insieme a me questa impresa fiumana. Sì, è un po' di brio nel testo di Leonardo Petrillo, insomma è affidato alla napolitanità di Ermione, le musiche sono coinvolgenti, quindi vi aspettiamo numerosi. Sì, è un po' di brio nel testo di Leonardo Petrillo.